Abbiamo investito in quest'opera perché la riteniamo strategica per lo sviluppo turistico della città. Montesilvano è la città che è la più grossa ricettività turistica di tutto l'Abruzzo. Dobbiamo mettere a disposizione non solo dei turisti ma anche dei cittadini degli angoli di città da poter vivere in assoluta tranquillità e libertà. Questo rientra in quell'attività portata avanti dall'amministrazione finalizzata a restituire al territorio tutte quelle incompiute. Infatti quest'opera risale a diversi anni fa e non è stata mai realizzata. Noi l'abbiamo ripescata dai cassetti e l'abbiamo portata a completamento. La ciliegina sulla torta sarà per il prossimo anno la realizzazione dei trabocchi alla fine di Via Maresca sull'ansa del fiume che si affaccia direttamente a mare dove verranno realizzati questi trabocchi che rappresenteranno il miglior biglietto da visita per i tanti turisti che ci auguriamo vorremmo continuare a preferire la città di Montesilvano. Mi piace sottolineare ad esempio la completa assenza di barriere architettoniche. Un progetto rivisitato dall'amministrazione Maragno che con la metà dei fondi che avevano previsto negli anni passati siamo riusciti a realizzare tutta la Via Maresca e non con effetti speciali come voleva fare la vecchia amministrazione con un appalto per alto poi andato a male, con materiali pregiati ma che avrebbe visto una riqualificazione molto parziale. Chi è di Montesilvano ricorda che questa era una via dove si veniva a fare il passeggio da sempre in fondo c'era il mulino, noi piano piano stiamo riportando qui quelle che erano le caratteristiche di una volta.